Cosa si fa con l'osteopatia a livello pediatrico? Ne abbiamo parlato con un'ostetrica, ma questo discorso è veramente interessante. Allora, siamo in diretta, aspettiamo che si collegano un po' di persone. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio soprattutto a quelli che hanno sopportato me per circa un mese e mezzo con tutte le forze di queste dirette. Abbiamo iniziato a trattenere i pazienti e le persone a casa per curare mal di schiena e problematiche del rachide, visto il fatto che in questo periodo si muove poco e si vive in ambienti abbastanza ristretti e da lì è nata una sfida. Nel senso, l'ho intitolata La giusta informazione. Abbiamo parlato di alcuni argomenti, soprattutto inerenti, la fisioterapia e l'osteopatia con altri specialisti. Abbiamo avuto in diretta specialisti come l'ognatologo, il podologo, l'otorino vestibologo. Poi abbiamo parlato di osteopatia in gravitanza e osteopatia pediatrica. E abbiamo parlato anche di funzione visiva. Abbiamo messo insieme i vari sistemi, abbiamo fatto capire come il corpo è così complesso e come è importante il lavoro multidisciplinare. Inizio nel presentare la puntata di oggi. Oggi, come ho detto, una puntata boom, che è l'ultima e penso che sia anche a livello nazionale. Abbiamo iniziato nel fare delle dirette a livello locale e siamo arrivati a livello nazionale. Ringrazio il dottor Prinzi, lo presento, laureato in medicina e chirurgia, specialistica in chirurgia addominale ed urgenza. Da 11 anni, sul pezzo a studiare la disbiosi, l'euposi e in generale il microbiota intestinale. Esperto di filoterapia integrata e floriterapia. Master in ipnosi erixosneana. Si definisce deprescrittore di quartiere. Buon pomeriggio! Ciao! Questa definizione di quartiere, deprescrittore di quartiere. Non so di che anno sei tu, io sono nato nel 71 e la tv a colori, i cartoni animati a colori, sono arrivati più o meno nell'80 o nell'81, adesso non ricordo. Però mi ricordo che fra i cartoni animati più facilmente disponibili, c'erano quelli che trasmetteva la Rai, c'era Super Vult, con i cartoni animati di Spider-Man. Spider-Man si definiva, il vostro affezionato Spider-Man di quartiere, il ragnetto di quartiere. L'idea quindi è nata da lì, il fatto che ci sia un deprescrittore, quanto piuttosto un igienista mentale per ogni quartiere è confortante, ti dà l'idea anche della dimensione, della dimensione culturale, della piccola comunità che però ha un punto di riferimento. Bene, bene. Adesso mi vengono in mente altre domande che suscitano curiosità. Vorrei sapere, adesso l'argomento che parliamo, la disbiosi, ma prima di sapere cos'è la disbiosi, vorrei sapere come, se ti do del tu, mi permetto di darti del tu, come sei arrivato da chirurgo addominale a studiare la disbiosi, cioè le malattie intestinali. Cosa ti ha suscitato questa curiosità? Di uscire poco fuori dagli schemi ed approfondire, perché ad oggi, come ben sappiamo, la medicina si basa più a livello sintomatologico e specialmente delle volte settoriale. C'è questo atteggiamento di chiusura, la definisco io. Vorrei sapere come è nata questa cosa. È chiaro che l'educazione settoriale è comunque il modo in cui a tutti noi e all'università viene passata la medicina. Forse perché è più facile passarla a pezzi, tutti noi siamo passati attraverso un'educazione di questo tipo, un'educazione universitaria di questo tipo. Per chi si occupa di chirurgia, o ancora peggio, il chirurgo d'urgenza, che è quello che deve lavorare nelle condizioni più estreme, deve avere delle capacità, da un lato capacità di fare diagnosi, capacità di vedere se intervenire o meno e quando intervieni essere capace di intervenire in qualunque situazione, anche quelle più estreme. Posso dire onestamente che spesso si trattava proprio di lavorare nella cacca, quando si tratta di perforazioni o di brutti mali, lavori nella cacca. Ecco che lì la conoscenza settoriale arriva fino a un certo punto, ci sono i singoli organi, ma chiunque ci sta ascoltando, se io gli dico di immaginarsi il cuore, un'immagine se la fanno, se dico di immaginarsi il fegato, il rene, è facile immaginarlo. Già comincia ad essere un pochettino più complesso immaginarsi il tubo digerente, che dalla bocca fino all'ano, sono otto metri di tubo ripiegato, con pezzi che potenzialmente sono molto distanti, ma sono vicinissimi. Per esempio il duodeno, che è il primo pezzo dopo lo stomaco, e sopra il duodeno appoggia il colo, che invece dovrebbe essere a distanza di 4 metri, barra 4 metri e mezzo rispetto al duodeno. In più, noi chirurghi, proprio per la necessità di saper operare in urgenza, dovevamo conoscere la vascularizzazione ammenadito, cioè quindi vene e arterie che errorano l'intestino, dove iniziano, dove finiscono. Aggiungici che spesso, ma non sempre, dovevamo occuparci anche del sistema linfatico, quindi metti insieme l'anatomia, il tubo digerente, il sistema vascolare, il sistema simpatico, tutto il sistema nervoso, e ti rendi conto che all'interno di una piccola cavità come l'addome, come si dice nel mio ambiente, l'addome è la morte del chirurgo, e la tomba del chirurgo, per quanto è complesso, è un campo minato. L'arrivo dell'ennesimo organo, se così lo possiamo chiamare, del microbiota, è stata una botta di fortuna tra il 2007 e il 2008, quando fui avvicinato da un collega, che era un giovane chirurgo, come me, palermitano, che incominciò a parlarmi di microbiota. E questo mi stimolava l'idea che noi fossimo pieni di batteri, che io avevo sempre considerato come nemici, e invece di vedere che i batteri del nostro intestino, il nostro microbiota, è più o meno come un martello, non è né buono né cattivo. È l'uso che ne fai del martello, ci puoi piantare un chiodo su una parete, per un quadro, così come in caso di aggressione, lo potresti usare come corpo estraneo per proteggerti. Quindi non sono i batteri che sono sbagliati, ma l'uso che ne facciamo. E quindi rispetto a un dogma, oggi da anni disconosciuto, in cui l'unico batterio buono è quello morto, ci rendiamo conto che loro invece rappresentano una struttura fondamentale della nostra vita. Senza di loro non potremmo vivere. Il loro DNA è quello che spiega, perché noi abbiamo così pochi geni, ne abbiamo pochissimi, e il loro DNA quindi è più importante del nostro, o altrettanto importante del nostro. Quindi la visione del microbiota come un organo diffuso, senza il quale non riusciamo a vivere, mi ha appassionato così tanto e non sono più riuscito a staccarmi dagli studi. Ne parlavamo poco prima della diretta, ora faccio un semi-spoiling a chi ci sta seguendo. Chi decide di fare una professione che riguardi la salute è condannato a fare da studente a vita. È vero. Ma è come una fame, poi inizia ad entrare in un circolo vizioso che non riesci più a farne a meno. Entri dentro, io mi ricordo quando ho iniziato, ho fatto la laurea in fisioterapia, ho detto ok, mi sono laureato. No, quello era solo il primo step. Poi il diploma in osteopatia, ok, mi sono diplomato, ma che dobbiamo approfondire? Corsi, corsi, studi, corsi, corsi, studi. Io ho notato che ho definito dottore, medico, il pirulco, ma sei uno scienziato, perché per fare questi studi, cioè gli studi che fai sono studi di evidenza scientifica e bisogna studiare molto e soprattutto avere una buona paratonanza della lingua inglese, perché gli studi, gli articoli scientifici sono tutti in lingua inglese, ma bisogna approfondire, cioè è come una sorta di droga, cioè quello è un sacrificio che noi facciamo per scoprire veramente come siamo fatti e come possiamo aiutare. Ma deve essere anche un'automazione, perché aiutare a star bene in salute una persona bisogna studiare tanto, sia la persona che bisogna studiare tanto la parte scientifica. Se è vero che studiare e approfondire poi per alcuni diventa una droga, però questo, Gerardo, per onestà, non è di tutti. Là ci vuole passione, quella è la passione che guida... La droga, io parlo passione, perché altrimenti è una frustrazione. Se non c'è passione, questo tipo di lavoro che facciamo noi in ambito medico può diventare veramente frustrante. Quindi ci deve essere una forte... io chiamo vocazione. Vocazione. E poi dietro ci deve stare tanta formazione, tanto studio e tanta ricerca. Però qual è la cosa positiva che mette insieme i fisioterapisti osteopati e i chirurghi, che siamo dei praticoni. Cioè che quello che noi studiamo poi lo mettiamo in pratica, se no non ha senso. La cultura, cioè la cultura, quanto piuttosto l'esperienza, senza un'applicazione pratica, è sterile. Non serve a nulla. Ok. Bene, sono d'accordo. Allora, entriamo nel vivo della puntata. Entriamo. Cosa che è successiva da me personalmente con il mio lavoro, è capitato molto di trattare a livello viscerale i pazienti, trovare problemi che non riuscivo a risolvere, indagando e andandomi a informare, ho capito che ci sono delle problematiche a livello gastrointestinali che sono state sottovalutate. Anche io non ero abbastanza informato. Studiando ho capito che esiste un problema che è la disbiosi. Volevo sapere, e potrei spiegarmi cos'è la disbiosi, perché ancora, per esempio, nel nostro territorio se ne parla poco, addirittura non si sa cos'è. Quante ore ho per rispondere? Poche. Sinterico, no. Nel senso, possiamo parlare. Vai. Noi nasciamo in un mondo che è dominato dai microorganismi, che siano batteri, funghi, alghe, parassiti, vermi, virus. Noi nasciamo all'interno di un mondo che è pieno, dove noi siamo, possiamo dire, a livello evolutivo, gli ultimi ospiti del pianeta. E non esiste animale sul pianeta, io parlo di tutte le specie animali, in cui i genitori non passano alla prole microorganismi che sono specie specifici, che siano pesci, che siano uccelli, rettili, anche politici. ognuno di noi passa alla prole i suoi batteri. Perché questo? Perché se noi nasciamo in un mondo sporco e pieno di microorganismi, è meglio che prima ti metta io dentro di te, sopra di te, quelli miei, piuttosto che far arrivare degli sconosciuti che si prendono lo spazio e fanno quello che vogliono. In più, tutti noi, come esseri, ci siamo evoluti insieme ai batteri. Io ti dico questa cosa che è eccezionale, chi studia biologia o chi ha questa passione la può andare a controllare. Dentro le nostre cellule ci sono almeno tre batteri. Ognuna delle nostre cellule ospitano tre batteri. Più conosciuto dei quali si chiama il mitocondrio. Il mitocondrio ha il suo DNA. Quando noi, le nostre cellule si dividono, lui si divide per i fatti suoi. Quindi tu pensa che noi cominciamo a guardare la presenza di microorganismi nel nostro corpo facendoci una domanda. Ma sono io che ospito loro o loro che ospitano me? Perché questi ce li abbiamo tutti. In effetti questi microorganismi, io uso il termine generico microorganismi per prendere tutti perché non ci sono solo batteri, iniziano a entrare dentro di noi dal liquido amniotico. Il liquido amniotico non è sterile, è stato dimostrato e noi tra l'ottava e la dodicesima settimana di gestazione incominciamo a bere il liquido amniotico all'interno del quale sono batteri materni. Quindi incominciamo a mettere dentro qualcosa che non è nostro. Lo continuiamo nel momento in cui se ancora ci sono bambini che nascono naturalmente, nel momento in cui c'è il passaggio attraverso il canale del parto, per cui la vagina non è un ambiente sporco che va stridizzato, noi sono milioni di anni che nasciamo così e quei batteri materni soprattutto i lattobacilli ci servono per qualcosa. Poi completiamo, diciamo, dovremmo completare anche qui se ci sono ancora bambini allattati al seno, dovremmo completare l'inserimento di questi batteri tramite l'allattamento. E in effetti nei primi tre anni di vita per passaggio attraverso il canale del parto, l'allattamento, le cose che tocchiamo, le cose che i bambini si mettono in bocca, per favore non gliele togliete, fate gliele mettere in bocca, abbastanza grandi da non ingoiarle, noi entriamo in contatto con i batteri che ci sono nel mondo e questo forma, si dice, il termine inglese è il core microbiota, ovvero la parte centrale, il cuore del nostro microbiota viene formato più o meno entro l'età dei tre anni. Questi batteri o microorganismi che sono anche le candide fisiologicamente presenti dentro di noi, si sono sposati con noi perché gli servono delle cose che noi produciamo, ovvero delle cose che noi scartiamo, così come a noi servono le cose che loro producono e si sono integrati al punto tale che non esiste sistema del nostro corpo che non venga influenzato dai microorganismi. Il totale di questi microorganismi che stanno su ogni superficie, su ogni pertugio che noi abbiamo, si chiama microbiota. Due termini vengono usati, quindi prima di parlare i disbiosi, due termini vengono usati quasi come se fossero sinonimi, ma non lo sono, e sono microbiota e microbioma. Microbiota fa riferimento al numero, alle famiglie, alla biodiversità di questi microorganismi, mentre microbioma fa riferimento invece all'insieme delle loro informazioni genetiche. Quando giro l'Italia e faccio dei webinar oppure faccio delle conferenze, io faccio vedere che noi esseri umani abbiamo tra i 26.000 e i 28.000 geni più o meno, ma che i microorganismi che fino ad ora abbiamo identificato superano i 3 milioni di geni. Quindi giusto per farti toccare con mano numericamente la differenza tra noi e loro. Nel momento in cui c'è uno squilibrio, per esempio una povertà nella biodiversità, nel numero di famiglie, oppure c'è la presenza eccessiva di una famiglia rispetto all'altra, quanto piuttosto una loro presenza eccessiva in luoghi diversi rispetto a quelli in cui dovrebbero stare, perché ogni pezzo del nostro corpo è un microambiente, un ambiente ecologico particolare, in quei casi noi parliamo di squilibrio e quindi parliamo di disbiosi, mentre col termine eubiosi noi parliamo dell'equilibrio che esiste all'interno del microbiota, ovvero dell'equilibrio che noi abbiamo con il microbiota. Interessante. Mi ricollego al fatto della puntata precedente quando abbiamo parlato di osteopatia neonatale e pediatrica, abbiamo sottolineato l'importanza dell'allattamento al seno, soprattutto pure perché i primi sei mesi il neonato non ha il sistema immunitario, si deve formare. Se mi dai altre tre ore ti spiego perché. Ne potremmo parlare in un'altra puntata se fa piacere. Ok. è da approfondire. Come dicevo è importante perché bisogna formare il sistema immunitario e parlavamo proprio del fatto che si non si non si spinge al fatto la mamma ad allattare ci sono problematiche di suczione e subito dicono danno scusa del fatto che il bambino non succhia bene la scusa è che non scende il latte ma è verità proprio perché il bambino non riesce a decodire bene perché ha delle compressioni craniche dovute al parto che sia cesareo o distocico che ha potuto avere e ha portato in ridazione dell'ipocrosso e di conseguenza decodisce male la mamma dice sempre guarda io sento dolore alla tettarella quindi succhia in realtà non succhia ma sta a morder le tenni il fatto di non succhiare questa è una delle dinamiche non va a stimolare le chiandri si ferma la produzione di latte e si ferma la produzione di latte questa è una cosa che dobbiamo io sto spingendo tantissimo il collegamento tra osteopati e ostetriche dovrebbe essere fondamentale e dovrebbe essere lasciato alle ostetriche di fare il loro lavoro senza che altre figure si intromettano non dico altro ok ottimo come si fa la diagnosi di disbiosi ah bellissimo è una domanda da un milione di dollari però non ce l'ho un milione di dollari anche se rispondi da quando abbiamo incominciato a studiare il microbiota più o meno dagli anni 80 in avanti noi ci siamo resi conto che più studiavamo meno ne sapevamo ancora oggi noi non sappiamo esattamente che cos'è l'eubiosi cioè non sappiamo com'è esattamente composto il microbiota perché cambia da paese a paese e cambia da persona a persona tanto da spingersi a dire che noi non abbiamo una sola impronta digitale ma in effetti ne abbiamo due una è proprio quella dei batteri ci sono tanti esami attualmente presenti sia sul territorio italiano che per esempio da aziende americane i quali vanno a studiare sia la presenza dei batteri che il loro genoma però è chiaro che la visione di un esame di questo tipo per quanto possa essere economicamente importante l'importo che paghi o importante il risultato che ottieni non avremo mai il cento per cento di risposta di come si misura una disbiosi e lo dico pur sapendo che io prescrivo spesso degli esami che vengono fatti sul territorio italiano esami delle feci particolari fatti in pochissimi laboratori credo che siano quattro in Italia i quali non cercano solo i batteri ma cercano batteri candide parassiti cercano i cosiddetti batteri saprofiti io li chiamo i saprofittatori così come vanno a cercare vanno a misurare le due tre quattro grosse famiglie di batteri positivi i batteri buoni come i bifido e i lattobacilli quindi in questo caso pur non avendo un esame perfetto perché non esiste al momento un esame perfetto un gold standard dalla comunità internazionale riconosciuto come gold standard se tu sai fare una buona anamnesi quindi ricostruire cosa è successo a una persona da dentro la pancia della mamma fino al momento attuale hai un sospetto o delle intuizioni che riguardino certi squilibri o la posizione di certi squilibri e fai quell'esame ecco che l'esame ti dà una conferma non perfetta al 100% ma diciamo grossolana te lo dico è grossolana però ti dice se hai uno squilibrio dal lato delle candide dal lato dei parsiti se hai dei patogeni e queste 3-4 aziende che cito che fanno questi lavori in Italia vanno a testare per esempio quanto sono efficaci gli oli essenziali gli oli essenziali di T3 di cannella di origano garofano timo caie eccetera che efficaci hanno nel riportare l'equilibrio all'interno dell'intestino veramente interessante veramente interessante stiamo aprendo un mondo che a me affascina tantissimo Cadiuscia chiedeva bel tema ultimamente si sente finalmente parlare anche di trapianto di microbiota trapianto di microbiota è una una terapia estrema che è stata testata parecchi anni fa nelle infezioni di un batterio terribile che si chiama clostridium difficile difficile di nome di fatto perché è un batterio che noi abbiamo involontariamente fatto crescere all'interno degli ospedali dove ci sono delle grosse quantità di antibiotico terapia abbiamo selezionato questo batterio non è l'unico tanto che il clostridium difficile quello brutto brutto è resistente a tutti gli antibiotici che conosciamo e allora nel tentativo di farlo fuori ecco che hanno incominciato a parlare di trapianto fecale trapianto fecale non è un trapianto vero e proprio non è che ti aprono la pancia e ti vanno a togliere degli organi e metterli ma è un trapianto di microbiota che in questo momento a livello internazionale viene esteso come indicazioni anche ad altre patologie perché diciamocelo francamente Gerardo ci sono più lavori scientifici che evidenziano come le persone sane rispetto alle persone malate quelle obese quelle che hanno disturbi metabolici diabeti di tipo secondo eccetera il microbiota è molto diverso e gli studi sui topi hanno dimostrato che topi che nascono senza batteri se gli metti i batteri del topo obeso diventano obesi se gli metti i batteri del topo che sta bene stanno bene perfetto davvero interessante quindi su questo in questo momento il trapianto di microbiota per quello che ne so lo fa a Roma c'è l'equip un'equip a Roma che lo fa non so in quanti altri ospedali d'Italia lo fanno ma soprattutto non so quale indicazioni il ministero accetti perché qua non sono attività private qua sono attività regolate e modulate sia dalla ricerca scientifica che dal ministero sono d'accordo con me per studiare veramente una patologia il corpo il sistema dobbiamo studiare in primis la cellula giusto? la medicina è una scienza in progress però questa scienza sta andando avanti studiando proprio la biologia la biochimica sì non non possiamo studiare solo l'anatomia e la fisiologia senza capire quello io posso dire non è che sono sempre stato il migliore degli studenti ma nel momento in cui ho capito quanto era importante io sono tornato a studiare o sono alle soglie dei 50 anni e non nascondo che mi sto studiando una vitamina alla volta in questo senso sono monogamo sono partito dalla vitamina D con cui c'è una liaison antica sono arrivato alle vitamine del gruppo B che mi hanno permesso di capire un sacco di cose meravigliose e le prossime diciamo in elenco sono la vitamina A e la vitamina E vi dico che c'è un mondo meraviglioso dietro meraviglioso di sostanze che sono potentissime che noi non assorbiamo più perché scusami se lo dico già mangiamo un merlo lo dico usando un termine poetico del professore Berrino perché quello che mangiamo ovvero quello che viene coltivato per l'uso del nostro popolo quello che viene è privo di micronutrienti quindi mancando i micronutrienti cioè le vitamine i sali minerali è chiaro che il nostro corpo incomincia a soffrirne e per quanto riguarda il mondo medico siamo divisi in due ci sono quelli che vedono i sintomi e curano i sintomi ci sono quelli che si domandano quali sono le cause e si industriano per trovare le cause e curare quindi se a me manca la vitamina B12 perché non la produco perché ho un gene difettato perché non mangio carne o piuttosto perché ho una disbiosi o perché sono stato operato di chirurgia bariatrica mi hanno tolto una parte dello stomaco mi hanno tolto una parte dell'intestino e io non assorbo più la vitamina B12 e il ferro ne risente il ferro scende giù e c'è un'anemia conseguente se io mi occupo di sintomi darò al paziente il ferro se io mi occupo di cause mi chiederò ma perché questo paziente non assorbe il ferro che a fine fa la vitamina B12 perché non viene assorbita e la terapia più banale sono le vitamine B12 in puntura per esempio quanto piuttosto le vitamine B12 che sciogliono in bocca esistono delle vitamine B12 che si sciogliono in bocca anche per i pazienti senza stomaco insieme al fattore intrinseco di Castor quindi la buona anamnesi le domande fatte bene la capacità di vedere gli esami sono fondamentali per capire da che lato sei se ti occupi di sintomi o se ti occupi di cause ottimo perfetto approfitto a fare qualche altra domanda che fanno gli spettatori Adriana chiede la donna incinta negli ultimi tre mesi di gravidanza deve nutrirsi di cibi particolari per rinforzare il sistema immunitario del bimbo? ci sono delle relazioni scientifiche internazionali delle linee guida precise su cosa va integrato negli ultimi mesi di gravidanza a partire dalla vitamina D come i folati e stessa cosa va considerata dopo il parto sia nel bambino sia nel lattante che nella madre le linee guida ci sono poi magari la quantità di vitamina D io posso anche non essere d'accordo ma ci sono quindi pretendete da qualunque professionista con cui avete una relazione professionale pretendete quantomeno le informazioni altra domanda correlazione tra microbiota e cistiti ricorrenti e beh il microbiota si trova anche all'interno della vescica cioè non esiste superficie in cui non ci sia il microbiota in questo periodo anche se non si hanno risultati precisi e si ci muove con estrema cautela si ci sta domandando se non ci sia un microbiota persino nel cervello posso aggiungere anche prostatini? sì ok allora tutto parto parlando di allattamento nell'allattamento al seno c'è un cross talk una comunicazione tra le esigenze del neonato e la capacità della madre di fornirgli risorse ed è interessante che mentre il bambino succia il latte dal seno il sistema immunitario della madre è capace di capire di che cosa ha bisogno il bambino di entrare nell'intestino certe cellule che si chiamano APC possono prendere specifici batteri dall'intestino e portarli al seno ora tra l'intestino e il seno non è che c'è un'autostrada o una via segreta noi stiamo parlando o di sistema o di sistema vascolare o di sistema linfatico vuol dire che in certe condizioni questi batteri potrebbero passare attraverso il sistema linfatico o attraverso il sistema venoso senza essere attaccati questo te lo dico in generale è il lancio diciamo una provocazione che poi magari in questa puntata nella prossima riusciamo a spiegare dall'altro lato la cistite cioè la vescica è a contatto con il mondo esterno per il tramite dell'uretra che siete maschi o siete femmine l'uretra collega con l'esterno dall'uretra si arriva la vescica dalla vescica si arriva i reni quindi queste superfici o tutto quello che è mucosa è fisiologicamente ricoperto da un certo tipo di microbiota il microbiota per il fatto che è diverso prende il nome dai distretti quindi c'è il microbiota renale c'è il microbiota vescicale c'è il microbiota uretrale potenzialmente c'è anche un microbiota prostatico in questo momento non è importante se non la prostata ci arriviamo da un punto di vista osteopatica ma com'è che si arriva a una cistite interstiziale c'è stato un'interruzione del microbiota magari nove volte su dieci una donna che ha problemi a fare pipì o che ha la percezione dei sintomi della cistite potrebbe trovare uno di quegli operatori che gli dicono si prenditi l'antibiotico ovviamente nel momento in cui tu usi un antibiotico tu stai andando a squilibrare un equilibrio e a forza di squilibrarlo quello che succede è che i batteri lo hanno visto con le scherichia coli hanno la capacità di ammucciarsi scusami alla palermitana di nascondersi all'interno della vescica così come lo fanno all'interno della pelle ci sono dei lavori anche vecchi che sono impressionanti con batteri che si trovano fra le nostre cellule della pelle la parte interna e non vengono riconosciuti come nemici ora e parlo non a caso che c'è l'osteopata accanto nel momento in cui una donna ha la percezione dei sintomi di una cistite prima di darti un antibiotico fatti fare un'analisi delle urine se c'è un batterio si vede quali sono gli antibiotici a cui è positivo lo si vede e poi domandiamoci se possiamo curare una cistite con il cranberry col mannosio o con dei probiotici c'è un escherichia coli per esempio che è venduto in farmacia si chiama escherichia coli misle non dico l'agronimo perché poi è il nome del prodotto il quale è certificato da letteratura internazionale contro le cistite escherichia coli però non è che a volte un colon più lungo può premere sulla vescica delle donne dando i stessi sintomi di una cistite ma senza che sia una cistite infettiva il colon è perverso il sigma il re così come tutto quello che sposta l'utero verso la vescica così come i cambiamenti della postura così come prima di dare un antibiotico a una persona tenendo conto che in Italia abbiamo il triste primato in Europa di avere più morti da antibiotico in resistenza d'Europa si stima 10.000 morti l'anno alcune stime raggiungono tentano di avvicinarsi ai 48.000 morti l'anno perché noi abbiamo campato attaccati alla pubblicità che ci deve c'hai questo problema prendi questo c'hai questo problema prendi quell'altro però purtroppo siccome i batteri non sono cretini siamo più cretini noi che pensiamo che ci sia la pillolina magica perché ce la passa la tv poi danno dopo danno dopo danno se voi andate a vedere fate un'analisi di chi ha una cistita interstiziale chiedetegli per quanti anni ha preso antibiotici o quanti antibiotici ha preso e ricordatevi che questi batteri questi microorganismi di cui vi parlavo in sei mesi fanno quello che il genere umano fa in 10.000 anni loro in sei mesi fanno 300 generazioni quindi ogni intervento farmacologico ogni intervento dietologico ha un impatto su di loro li può selezionare loro si rendono conto di aver avuto il contatto con un antibiotico non sono stupidi e per sopravvivere che fanno si trasformano fino al punto in cui quell'antibiotico su di loro non funziona più ma magari su altri ecco la domanda che mi sorge spontanea è l'effetto i danni collaterali dell'antibiotico su un microbiota soprattutto si ne fa abuso è chiaro che io da chirurgo non posso nascondere che ogni volta che si faceva un'operazione per necessità per protezione del paziente c'era un antibiotico da fare quindi io non sto parlando che è sbagliato usare l'antibiotico non sia mai l'antibiotico il gastroprotettore la metformina quando servono vanno usati la domanda che ci dobbiamo porre è uno se servono e due se serve quel farmaco rispetto a un altro perché il mannosio come zucchero che si concentra nelle urine e che è infermentabile il mannosio è per esempio uno sterilizzante della vescica ma non ha un effetto sul microbiota non è un antibiotico stessa cosa le proprietà del cranberry che sembrano avere un effetto molto importante sui batteri però non è un antibiotico perché se io prendo una penicillina ad ampio spettro non facciamo nomi però ogni due per tre chi ha il mal di gola in inverno chi ha un dolore di mola prende sempre lo stesso farmaco che curiosità sempre lo stesso farmaco in tutta Italia una penicillina ad ampio spettro già dice tutta una parola è una bomba atomica non esiste un antibiotico che sia talmente super selettivo da funzionare solo sull'elicobacter pylori o solo sulle scricchia coli quindi chi usa gli antibiotici chi ha la responsabilità di prescrivere gli antibiotici queste cose se le deve ricordare perché letteratura internazionale oramai non è che me lo sto inventando io il microbiota le obbiosi gli effetti degli antibiotici lo sappiamo dalla fine degli anni 90 siamo nel 2020 oh basta spesso noi in osteopatia a livello viscerale trattiamo cause dovute ad effetti da eccesso di antibiotico perché poi quando si fa una cura massiva a livello antibiotico si creano delle infiammazioni infiammazioni poi creano aderenze e arrivano da noi per questo problema perché poi poi spiegheremo più avanti cosa succede è mai capitato di trovare dei danneggiati da fluoroquinolonici sì per chi non lo sa fluoroquinolonici farmaci meravigliosi che io ho usato ho usato fino al 2018 come terapia antibiotica sui miei pazienti è arrivato un'allerta dell'ente europeo sui farmaci che diceva attenzione perché questi farmaci possono fare dei danni brutti quindi prima di dare questi farmaci con leggerezza utilizzate altro ovvero fatelo anamnesi approfondita sui pazienti questo non è arrivato né dallo stato né dalla pubblicità i pazienti non lo sanno per cui il fluoroquinolonico è per esempio il primo farmaco il primo antibiotico che viene utilizzato sulle vie urinarie e l'EFSA l'ente di sicurezza sui farmaci dice attenzione non utilizzarlo nelle infezioni urinarie sono dati del 2000 sono relazioni del 2018 queste interessante interessante davvero interessante io non mi ricordo se ti ho fatto ci sono tante domande che poi vedremo delle persone non mi ricordo se ti ho fatto la domanda a milioni di euro causa della disbiosi ne abbiamo parlato giusto? che cosa causa una disbiosi? tante cose possono causare una disbiosi la prima cosa è che noi ci potremmo nascere con una disbiosi un parto cesario con un allattamento artificiale certificano la disbiosi i bambini che non sono allattati hanno dieci volte più infezioni di quelli allattati perché gli zuccheri presenti nel latte della madre è come se fossero delle bombe delle mine per i parassiti per i virus e per i batteri però giustamente stendo un velo pietoso perché stavo per dire delle cose che non è bello dire quindi noi ci possiamo nascere con la disbiosi ma è anche possibile che nasciamo con il miglior microbiota del mondo e poi a un certo punto una bronchiolite quanto piuttosto un'infezione quanto piuttosto un problema delle tonsille portano il nostro pediatra giustamente correttamente a usare un antibiotico la maggior parte delle volte una penicillina dà più spettro ma anche quello che mangiamo oltre che gli antibiotici anche quello che mangiamo perché se quello che io mangio non va bene per il mio corpo e incomincio ad avere dei problemi tipo digestivo o una stipsi o il cibo che rimane sulla panza la pancia che gonfia o gastrite e reclusso voi state certi che in quel momento quando percepite gastrite e reclusso c'è una disbiosi dentro quando vedete la lingua bianca c'è una disbiosi dentro e al di là di questo se io vivo in campagna e mangio cibo che coltivo io che ne so uova da galline frici io ho la certezza di sapere che cosa c'è dentro quando invece vivo in una grossa città dove il mio spacciatore di cibo è un supermercato che magari ha una catena alimentare basata su verdure fatte con le polverine quanto piuttosto animali chiusi strachiusi in una gabbia e imbottiti di antibiotici anche lì inconsapevolmente perché beh lo si sa dalla seconda guerra mondiale che gli antibiotici fanno aumentare la massa e il peso degli animali però inconsapevolmente io mi sto prendendo delle cose che non voglio e inconsapevolmente senza volerlo io sto intervenendo sulla funzionalità e la composizione del microbiota ok questa è un'altra domanda poi casomai riprendiamo l'altro dei spettatori cosa vuol dire medicina funzionale? intanto mi permetti di salutare Deborah Grande assolutamente sì ciao Deborah cos'è la medicina funzionale? a partire dal 1988 quando ci fu una una un grosso congresso a Roma sulla gastroenterologia nell'88 erano in tanti che si chiedevano che cacchio è la sindrome del colon irritabile ancora oggi se lo chiedono che cacchio è anche perché non esiste la sindrome del colon irritabile esiste la sindrome dell'intestino irritabile e quindi un professore romano dell'università di Roma decide decise e lo seguirono in tanti di creare un gruppo che si occupasse proprio di andare alla ricerca delle cause e delle manifestazioni del cosiddetto intestino irritabile dall'ora a ora questa comunità scientifica ha cambiato il modo di guardare alle persone ha cambiato il modo di fare letteratura ha cambiato il modo di fare i lavori scientifici e ha incominciato a generare quelli che si chiamano i criteri di Roma i criteri di Roma riconosciuti a livello internazionale quindi Roma Caput Mundi da un punto di vista gastroenterologico il GOTA quindi dei gastroenterologi ha schedulato diciamo fatto delle schede su quelle che sono le malattie gastrointestinali riconoscendole come malattie di tipo funzionale cioè una gastrite non è semplicemente un buco o un'infiammazione dello stomaco o un buco per esempio un ulcero nello stomaco ma è un problema che riguarda la funzione dell'organo la funzione dell'organo è la peristalsi cioè lo stomaco è come una macina che rompe il cibo la funzione è l'acido che degrada le proteine la funzione è la capacità di far fuori i batteri che arrivano la funzione è anche il collegamento da un lato con l'esofago dall'altro con il duodeno perché è un tubo unico il sistema digerente è un organo unico è tutto innervato è pieno di sistema immunitario è tutto tapezzato dal sistema immunitario ed è intrinsecamente costituito dalla muscolatura che ha una finalità che va dall'alto verso il basso e che serve certe funzioni qualunque cosa si manifesti come interruzione una di queste funzioni crea il problema ed ecco che loro nei criteri di Roma 3 e poi più modernamente nei criteri di Roma 4 che sono del 2016 loro utilizzano il termine funzionale da cui discende la medicina funzionale quindi la medicina funzionale non può guardare uno stomaco e dire c'è la gastrite prenditi il gastroprotettore la medicina funzionale riconosce che il problema dello stomaco può essere una dispepsia funzionale ci può essere un'atonia disfunzionale ci vanno a cercare i perché si vanno a fare degli esami per capire i perché e poi risolvere il problema compreso questo intestino irritabile che è questa entità misconosciuta te lo dico tra un sorriso e l'altro almeno 4 pazienti su 10 con l'intestino irritabile hanno un problema con la sensibilità glutine non ciriaca e una grossa percentuale di pazienti che hanno il cosiddetto colon irritabile o intestino irritabile lo hanno avuto dopo un'infezione una gastroenterite per esempio alimentare sono stati in Egitto in Marocco che ne so da un take away un all you can eat hanno preso una gastroenterite intestinale e quella gastroenterite è stato il punto di partenza dello squilibrio batterico che poi è portato allo squilibrio funzionale interessante prendo qualche altra domanda me ne sono perse volevo fare ci sono tantissime domande adesso me le sono perse stavo andando per sequenza va bene andiamo avanti con le nostre poi le ritrovo cosa c'entra questo con l'apparato osteoarticolare parlo io o parli tu parla tu e poi parlo io allora a livello più microscopico siccome il mio intestino ha una barriera che separa me dalla cacca ovvero fa in modo che quello che della cacca entri dentro di me sia solo quello di cui ho bisogno tutte quelle che sono le alterazioni di questa membrana intestinale di questa barriera intestinale permettono ad antigeni alimentari o a pezzettini di batteri pezzettini di microorganismi di entrare dentro di me uno fra tanti nell'artrite reumatoide ma in quanto in tutte le artriti in tutte le patologie anche delle come si chiama delle articolazioni quello che è stato visto che ci possono essere pezzettini della come si chiama della superficie dei batteri particolarmente il gramme negativi questa proteina si chiama l'ipopolisaccaride batterico i quali entrano nel circolo e gli piace in particolare alcune molecole delle cartilagini si vanno a mettere lì il sistema immunitario se ne accorge e gli spara cioè spara contro quello che è un nemico quello che è considerato un estraneo creando per esempio infiammazione delle articolazioni o infiammazione delle osse stessa cosa anche sui muscoli ma se vogliamo essere più leggeri e meno diciamo entrare meno nel particolare l'intestino questo tubo lungo 8 metri non è appoggiato nel nulla non galleggia nel vuoto l'intestino è diviso in una parte retro peritoneale e in una parte peritoneale ovvero una parte che è appiccicata ai muscoli che ci sono nella schiena una parte che è appiccicata alla schiena nella colonna in più siccome noi siamo un unico cioè non è che c'è il cuore qua e lo stomaco qua che sono separati quando la pancia gonfia quando c'è un aumento della pressione della pancia questa pancia fa anche una pressione sul diaframma nel momento in cui fa una pressione sul diaframma e fa una pressione sulle costole già questo può essere identificato come un fattore meccanico che favorisce il reflusso quindi vedete come il reflusso è una disbiosi intestinale come anche un problema legato a degli alimenti che il tuo corpo ti sta dicendo che non li vuole può provocare dei problemi che arrivano al tubo digerente che si manifestano sul torace ma anche nelle spalle ma anche nelle come si chiama nella spalla destra spalla sinistra nella cervicale alcune cefalee sembrano essere collegate a disturbi intestinali questo è la vecchia parte dell'anamnesi della capacità dell'esame obiettivo dei medici che noi abbiamo dimenticato abbiamo la risonanza abbiamo la tac chi se ne frega di guardare la schiena del paziente o di guardare la lingua o di guardare le sclere degli occhi no Gera? assolutamente sì per esempio le migranie quando parliamo di mal di testa di umilato quella è viscerale il 99% è viscerale come per esempio mi hai citato appunto del meteorismo cosa succede? quando c'è l'espansione addominale essendo il peritoneo collegato dietro e racchiuso sulla radice mesenterica cosa fa? l'espansione porta uno spasmo della radice mesenterica lo faccio vedere così di conseguenza crea una compressione di scale sulla parte lombosagrale e poi nascono le discopatie altre associazioni quali sono le aderenze dovute all'informazione eccetera soprattutto del peritoneo che portano blocchi del peritoneo a livello fasciale si ripercuotono poi sul bacino posteriormente sulle fasce femorali quindi pluralgie addirittura sciatalgie interessando la parte superiore diaframmatica e lo stomaco il duodeno con il nervo vago vanno a influire il plesso cervicale plesso cervicale spalle e dolori fastidi alle braccia e tutta la parte superiore spezziamo una lancia a favore di quei fisioterapisti o fisioterapisti osteopati o osteopati i quali hanno scelto una super specializzazione qua mi viene da fare intanto un saluto a Ima Trabucco tua collega la salutiamo che mette in pratica le manipolazioni fasciali perché sono sei anni che si occupa di reflusso ma c'è anche Michelangelo Lecce fisioterapista di Roma il quale si occupa esclusivamente delle nevragie del pudendo tu dici ma che c'entra il pudendo con l'intestino il pudendo cioè questo nervo non nasce dal nulla passa attraverso la parte interna del corpo e viene irrolato da vene arterie tutto quello che premendo per esempio un sigma più lungo un colon più lungo se preme costantemente in una certa zona all'interno dell'addome porta a un'alterazione della vascularizzazione cioè sangue venoso sangue arterioso così come premere su un muscolo come può premere su un nervo da cui la neuropatia quindi quando c'è un dolore quando c'è una disfunzione non vedere l'associazione proprio deve essere o non ti va di vederla no nemmeno mezzo ciechi tutte e due oppure sei un vecchio paradigma in cui ancora gli organi sono separati ma non c'è nel nostro corpo non c'è nulla di separato sono come permettimi il termine come gli ingranaggi di un orologio basta un chicco di sale un granello di sabbia che blocca un certo ingranaggio e tutti gli ingranaggi prima e dopo vengono bloccati prima o poi quando parliamo quindi di medicina funzionale noi dobbiamo passare alle persone normali al popolo ai pazienti questa visione perché poi capita che tu vai dal tuo amico ah ma sai il microbiota quello ti guarda eh microbiota di che ah ma sai questa potrebbe essere la disbiosi la risposta è no assolutamente no ma che ne cioè la persona così non voglio fare i nomi ma cattedratici io mi batto tanto per fare la giusta informazione questo mese mi sto battendo tantissimo spero che questo documento vada in giro per internet ma che sia solo l'inizio di una discussione perché noi siamo aperti al dialogo e alla discussione eh per diffondere la giusta informazione eh andare avanti su questa strada perché secondo me è l'unica strada che porta veramente alla guarigione eh della persona facciamo regione è un termine difficile cioè a migliorare lo stato migliorare perché fattore però quando una persona non un paziente quando una persona conosce la situazione in cui si trova ti ho perso eh sì ho visto non so perché mi hai perso ti sento ma non ti vedo eh non so la telecamera e le fonti verranno visualizzate qui non so perché non me lo fa vedere aspetta ci ritrovo collega la fotocamera aspetta ti ricollego ok eccoci si vede che la telecamera si era intimidita che io stessi dicendo qualcosa di brutto se noi passiamo queste informazioni alle persone e le persone hanno una visione di sistema ci sono parecchi di quelli che seguono la mia pagina che sono o ricercatori o delusi dal sistema sanitario e preferiscono fare da loro e io sono tre anni che usando metafora usando un linguaggio semplice tento di passare di passare più informazioni che posso alle persone e mi piace l'idea che essere educatore è parte integrante del ruolo del medico non puoi essere medico se non sei un educatore è vero questa è una bella informazione volevo mi permette è bellissimo questo programma perché riesco a leggere le domande e c'era la domanda di una che si chiama Sara Serafina Ninni due cose intanto mi chiede di ribadire il lavoro in equip assolutamente se esistono in medicina lauree specialistiche in medicina o in fisioterapia o in riabilitazione o in osteopatia in infermeristica eccetera è perché nessuno di noi è un'isola nessuno di noi può lavorare da solo e chi meglio di un chirurgo te lo può dire perché il chirurgo è come Schumacher io entro là e sono il chirurgo è bellissimo ma Schumacher se non avesse avuto John Todd se non avesse avuto la scuderia una macchina progettata bene avesse una squadra che gli cambiava le gomme in quattro secondi o quello che gli metteva la benzina in tre ma col cavolo che sarebbe stato Schumacher quindi se ognuno fa il suo questo mi permette a me di diventare bravo nel mio e di passare le competenze di riabilitazione ai pazienti a Gerardo quanto piuttosto è in matrabucco a Riccardo Cecchetto a Raffaella Lupi a Gianluca Catani a Giuseppe Bisalli e tutte le persone meravigliose che ho conosciuto in quest'anno e mezzo e che mi hanno restituito una visione della medicina funzionale fisioterapisti osteopati oppure fisioterapisti osteopati a cui sono grato l'altra cosa che non è da sottovalutare quando parlo di microorganismi è vitamina D perché qua me lo chiede sempre Sara Sara Serafina Nigni la vitamina D è un ormone fondamentale non è una vitamina è un ormone noi questo ormone lo prendiamo dal sole lo prendiamo in certi periodi dell'anno in altri meno non riusciamo a prenderlo dall'alimentazione a meno che non mangiamo quintali di olio di fegato di merruzzo di salmone per cui chi come noi vive in Sicilia quanto piuttosto in Puglia in Calabria eccetera da maggio fino a novembre i raggi del sole sono tali per produrre vitamina D a meno che tu non stia prendendo un farmaco per il colesterolo la produci ma noi abbiamo dimenticato che cosa fa la vitamina D una delle cose che fa la vitamina D oltre che essere presente come recettore in tutte le cellule del sistema immunitario aumenta le difese del sistema intestinale il sistema difensivo intestinale produce più difese con la vitamina D e non è la vitamina D che prendi una volta alla settimana una volta due settimane una volta al mese ogni volta ogni volta che so una volta ogni morte di papa scusa Francesco perché mi sente so che so che mi ascolta la vitamina D è scritto da tutte le parti la più fisiologica delle somministrazioni è giornaliera poco importa la dose fossero anche mille o duemila unità al giorno ma deve essere giornaliera e questo aiuta a creare quell'equilibrio che per esempio manca nel nostro intestino proprio perché ci mancano elettroliti e vitamine nella alimentazione giornaliera prendo una volta a volo di Veronica che saluta e dice ma esiste veramente il dottore o esiste veramente parlava del microbiota se può essere correttato soprattutto alla fibromialgia se c'era una correlazione con la fibromialgia c'è qualche lavoro scientifico che connette la disbiosi con l'interruzione della membrana intestinale il passaggio di lipopolisaccaride batterico in circolo il fatto che arrivi alla membrana ematoencefalica quanto piuttosto alla membrana dei nervi e possa provocare una neuropatia infiammatoria da lipopolisaccaride batterico poi fibromialgia è purtroppo un termine generico in cui ci si inseriscono tante cose ed è lo dico sorridendo la fibromialgia è il nuovo intestino irritabile è il fatto di se ti interrompo il fatto di dare una di dare come dire una fine a un paziente se è spacciato ti dicono se c'è la fibromialgia no allora diciamo così io c'ho la fibromialgia ok vorrei sapere come si guarisce o vorrei sapere come si compensa quando si dà però un paziente con la fibromialgia l'unica cosa che gli dai sono degli psicofarmaci allora un paio di domande ce le dovremmo porre ti faccio l'esempio però perché fibromialgia purtroppo è un'etichetta semantica fraintesa viene da me una signora lei veniva da Milano viene all'ambulatorio di Torino mi parla di fibromialgia di dolori eccetera e io decido di fargli fare un esame da cui si scopre che lei ha un'infiammazione da cibo per i lieviti e per i glutine le faccio la proposta di smettere per tre o quattro settimane sia i lieviti per i lieviti